Dovreste salire su quest'antenna di qua C'è un bellissimo panorama Il lavoro consiste nel sistemare le antenne Che qualche uccello ha rotto Grazie E non il mio, per precisare Ma quanta gente c'è? Sì, saliamo tutti Ma come tutti? C'entriamo tutti almeno Deve fare la foto o il video mentre cadono Che sto facendo io? Aspetta, allora io sto giù Guarda le ombre davanti Io sto facendo il video mentre stanno salendo Siamo tutti in coda Ciao Garex Sali ancora Sali ancora Ragazzi ancora più su Verso l'infinito e oltre Dai su ragazzi Forza e coraggio Adesso arriva la polizia, ci c'è chi Dove siete raga? Sopra un'antenna Ah no, siamo arrivati ragazzi E allora? Ah che bel panorama La vista che c'è State sacrificando? Sì No, africano No, madonna africano Ragazzi ma state attenti La qualcuno ca Io vedo Tanto muore Tanto muore Muore sicuramente Ma è fisico Eeeh Non c'è lo spazio Eppure si Ah no Allora continua tu Allora continua tu Vi abbiamo convocati Perché corne esige sangue E sangue dobbiamo dargli Però vogliamo anche divertirci Ma quanti denti hai? Facciamo che voi adesso scavincate quella recensione E vediamo a quanto siete bravi ad atterrare sulle vostre gambe Aspettate 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 Non ce l'ha fatta Il signor col caschetto non ce l'ha fatta Lei sopravvive lì Lei sopravvive però Guardi Guardi che bravo Eh vabbè Ma è stato troppo semplice Non è che c'erano di giro C'erano quasi cazzo Ragazzi se prendiamo lo spazio che succede? Eh ti butti giù E che ti butti giù Non so quanto Portiamoli in chiesa C'erano quasi cazzo Ma stiamo scherzando Ma cos'è che volevano prendere? Che dottore Allora Xezor se ti senti la testa nel culo non ti preoccupare La mia gamba Aspetta che faccio una foto da qua è bellissima Ma guarda questo In che posso? Roman Roman scendi subito dal mio pick up Sto fluttuando Scendi Ho dato una bottiglia d'acqua Grazie Io chiamerei i medici Raga allontanate Ma perché sta volando quell'auto? Allontanate Roman scendi Roman scendi Ti penso io Levati No 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 Aspetta aspetta Ci penso io Ci penso io Ci penso io Oh Sto cedendo la ro Mi chiamo Raga Romana sei un coglione Mi sarai bisogno di nuovo del suo intervento Ma che cazzo Che è? Non c'è sto niente ragazzo Un salvore ho visto Ma il dottore fa serve che cazzo fa? Dottore ma lei è un party Ma è un bar Gli atti così ritirati eh Fast and Furious Solo party originali Non è che sei inseguida a me Ma do 13 pps No Non schiantarti qui perché ti ammazzo Esci da cavallo Esci da cavallo Esci da questo corpo No Ma come Mamma mia Vi stai inseguendo Vi stai inseguendo Vi stai inseguendo Eh ma intanto non so dove siamo Eh Gruppo assessore Ma chi hai a piedi? Cronos Vieni alla posta Vieni alla posta Ma che posta? No 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 Devi uscire dalla no file zone Esci dalla no file zone Esci dalla no file zone Come fa a incularci no? Non funziona tesser attraverso i vetri Eh vabbè ti ammazza Ammazza Vi 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 sto dire Oh ma che What the fuck Via 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 Chiamate Ghostbuster Via via ciao ciao No 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 Sono i fantasmi Vaffanculo Hai successo? Vai in culo va Ciao ciao Come cazzo ti sei messo? No no fermo che si riesco L'elicottero è il carro Fammi scendere Esci scendere Sei pronto? Quale è il tasto? Oh che fate la dritta No spostati che siamo la dritta Spostati E come cazzo hai fatto a rifinarti qua dentro? Non con Roma dentro Non fare la dritta con Roma Quale è il tasto per le ragazze? Vai spostati Cheetera Avanti